Riuscirai musica a mangiare quanti sono? 5 gritti McBacon Dai McBacon Questa è il numero 2 L'idea finito per cinque, finito per me le anni di... Si affrono le scommesse Io scommetto cinque e arriva in quattro Dopo in quattro c'è la pazienza domani Si si, quattro Quanto deve mangiare? Cinque o tutte le serie? Sono cinque Ah, sono cinque Ah, cinque, crispi, macbacoms L'uomo della sfida L'uomo della sfida No, no, parico, se io ho utile a mangiare a fare gli ammessi cinque Uno Uno No, due 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 sono andati Si accinge a prendere il terzo E continueremo le riprese per l'ultimo vanino rimasto Questo è il terzo, eccolo là Si accorgono L'uomo della sfida L'uomo della sfida Si accorgono